Al Grande Fratello VIP giovedì entreranno sei concorrenti nuovi. Ma contrariamente a quanto trapelato online Elena Prestes non dovrebbe essere nella rosa dei nuovi vipponi. Al suo posto sarebbe spuntata l'ipotesi Mikolin Corvaia. Mikolin Corvaia è una perfetta sconosciuta che è celebre per essere la sorella di Clizia in Corvaia e per essere stata l'ex fidanzata di Edoardo Donna Maria. Nonostante i due non stiano più insieme, la ragazza su Twitter ha messo svariati l'IKEA tweet contro Antonella Fiordelisi ed i Donnalisi. In particolar modo l'IKEA e i post contro Antonella sono tutti sul suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Mikolin Corvaia sarà una nuova concorrente del Grande Fratello VIP? Mikolin Corvaia sarà una nuova concorrente del Grande Fratello VIP?